Lo sapevi che la prima intervista in assoluto proposta a Raw ha visto come protagonisti Vince McMahon e Rizzo Ramon? In quella circostanza Ramon minacciò il campione Brett Deitman Hart, con il quale se la sarebbe vista di lì a poche settimane alla Royal Rumble. Era l'11 gennaio del 1993 e si trattava anche dell'episodio inaugurale del programma che ancora oggi va in onda nelle case di Mezzomondo.